E' morto il comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè, Germano Mancini, 50 anni. Il militare si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di ferragosto. Originario di Pescara risiedeva a Noale. Fatale una crisi respiratoria. Le autorità locali stanno cercando di capire se il malore possa essere riconducibile a un'infezione da virus del vaiolo delle scimmie. A comunicare l'improvvisa scomparsa, il Ministero della Salute cubano in un comunicato. Il paziente, che si trovava in condizioni critiche instabili dal 18 agosto giovedì, è morto la sera del 21 agosto domenica. Mercoledì aveva avuto i primi sintomi, ma inizialmente il militare aveva pensato a un malessere passeggero, scrive. Il giorno successivo, vedendo che invece la situazione non accennava a migliorare, si è rivolto a un medico. Da qui le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, tanto da richiedere il trasferimento urgente in terapie intensive in ospedale. Mancini era a Cuba con alcuni amici. Separato, padre di un figlio, tornerà in patria al termine delle pratiche tra i due paesi. L'ambasciata italiana a Cuba, in stretto raccordo con la Farnesina e le autorità locali, si è messa a disposizione della famiglia del militare per fornire ogni possibile assistenza.